un po' buono, andiamo a mettere andò non c'ho io? già è dato o no? oh no e vabbè, quello è un profilo greco esatto e allora, è bello un profilo greco bravo, quindi è un naso perfetto bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.